Da qualche minuto è terminata la gara qui a Leverano, dove l'FBC Gravina ha superato i padroni di casa con un rotondo 3-0. Siamo in compagnia di mister Schito del Leverano. Mister, una squadra di Leverano che ha fatto una buona partita, nella ripresa è uscito fuori forse un Gravina e il Leverano non è uscito più a tenere sulla partita. Che il Gravina fosse una squadra molto forte lo sapevamo già, però devo dire che non è vero che la ripresa è uscito il Gravina. C'è stato un episodio che ha condizionato la partita e quindi dopo il calcio di rigore siamo andati in difficoltà perché volevamo rimontare la partita. Il Gravina sicuramente è una grandissima squadra, è un ultimo complesso, però ripeto la mia squadra fino a quando non c'è stato con l'episodio del calcio di rigore si è mossa bene, anzi sono molto contento. Bisogna pure precisare che avevamo 90 minuti in più nelle gambe perché giovedì il Gravina non ha giocato e quindi noi abbiamo giocato giovedì contro una squadra ostica, 37 gradi, quindi eravamo un po' pesanti. E quindi il secondo tempo abbiamo avuto un po' di un calo fisico, però ripeto sono contento della prestazione ragazzi. Il risultato mi sa è un po' eccessivo perché chi ha visto la partita non penso che c'era tutta questa differenza tra il Gravina e noi. Dice bene, gara ha deciso di un episodio, poi naturalmente la sua squadra si è esposta in avanti, quindi il contropiede del Gravina ha avuto una meglio. Probabilmente è mancata con la cattiveria dopo il vantaggio del Gravina per provare a riacciuffare l'incontro. Non è che è mancata la cattiveria, sono pure episodi, per esempio sull'1-0 c'è stato il mio attaccante Gennari che stava andando da solo in porta, è stato steso per terra, l'albitro non ha fischiato, era l'ultimo uomo, è un episodio che magari poteva condizionare il risultato. Poi alcune situazioni, due o tre falli in area di rigore nostra che l'albitro ha storvolato che a mio parere erano nettamente da fischiare. Purtroppo la partita è fatta di episodi, noi siamo stati condannati da episodi negativi, però voglio dire faccio in bocca al lupo ai miei ragazzi perché veramente si sono mossi bene e hanno onorato veramente questa partita contro una squadra che secondo me è a lungo andare e vincere il campionato. Il campionato da poco iniziato dice bene sconfitta che naturalmente non intacca il proseguo del torneo per la vostra squadra, squadra che è ripescata in extremis, quindi squadra giovane che deve lavorare tanto per riuscire a salvarsi, quindi in un campionato molto tosto come questo di deccellenza. Sì, sicuramente, noi non abbiamo nessun obiettivo, l'unico obiettivo è tentare di salvarci, anche perché abbiamo fatto una squadra di ragazzini, una squadra per divertirci, se riusciamo a salvarci è bene. Noi fino alla fine ce la giocheremo, anche perché voglio dire non abbiamo nessun obiettivo. Ripeto, per noi è un evento storico, per la città di Leverano sta in eccellenza e cercheremo in tutti i modi di mantenere la categoria. Con mister Gennaro Di Maio al termine della gara fra Leverano e Gravina siamo qui a commentare una vittoria che il punteggio dice schiacciante al termine di una gara dove Gravina ha senz'altro stradominato, mister. Sì, credo di sì, credo che la vittoria sia meritata, è stata sofferta perché, come ti dicevo domenica scorsa, non c'è niente di scontato e di facile. Dopo un primo tempo dove abbiamo creato qualcosina, loro hanno tenuto bene il campo, erano dieci tutti sottolineati della palla, abbiamo avuto la giusta pazienza per cercare di far gol, abbiamo sbagliato come ci capita spesso l'ultimo passaggio, però diciamo che l'importante era stare lì e tenere sotto pressione. Abbiamo cercato di tenere ritmi alti, considerando il fatto che loro avevano giocato giovedì, quindi avrebbero sicuramente pagato con un po' di stanchezza. A secondo tempo invece, dopo un 3-4 minuti dove loro hanno cercato di dispersarsi il ritmo, noi siamo di nuovo saliti in cattere, abbiamo cercato di alzare nuovamente i ritmi e poi c'è stato l'episodio, credo, del rigore netto che naturalmente ci ha spianato la strada. Però vittoria sofferta su un campo difficile, secondo me, ossico, ma oggi la squadra ha dimostrato di esserci, di riscattarci dopo la prova opaca di domenica e adesso bisogna, con equilibrio, continuare a lavorare e già proiettarci da domani alla gara di giovedì. Un ottimo secondo tempo, diceva, soprattutto dopo un primo tempo dove il Gremina senza altro ha fatto la partita è mancato quella cattiveria, come ha ripetuto lei poc'anzi. Si è visto un Gremina che ha voluto riprendere questa prima vittoria, quello che probabilmente è mancato sette giorni fa a Mesagni. Sì, l'analisi giusta è quella. A primo tempo non è che c'è mancata cattiveria, c'è mancato l'ultimo passaggio, magari siamo stati un po' superficiali, però come dicevi tu prima, la differenza tra questa domenica e quella scorsa è che c'è stata la giusta terminazione, la cattiveria, la voglia di voler andare a vincere la partita, di chiuderla e di mettere i risultati a sicuro. Formazione rivoluzionata, abbiamo notato dal primo minuto, forse anche in vista del Tour de Force che attuano dei giallobroni nelle prossime settimane. Deve essere sincero, ho visto la partita di domenica in tv con l'Altamura dell'Everano, mi ero accorto di determinate situazioni, quindi in settimana abbiamo lavorato su un sistema diverso che oggi, ringraziando Dio, ci ha dato i frutti che speravamo e poi anche perché giovedì ci attende un'alta gara ho cercato di gestire un po' gli uomini a disposizione visto che la cosa bella di questa squadra è che chiunque va in campo è come se fossero titolari, quindi per me è importante questo. Giovedì arriva alla sud-est, al comunale, nella prima, nel nuovo stadio. C'è da affrontare senz'altro una formazione di spessore, una formazione candidata alla vittoria del campionato? Si attende a un grande prestazione del Gravina, quindi? Sì, dobbiamo solo stare attenti a non farci distrarre da eventi esterni, quale potrebbe essere un po' la novità, il campo, l'euforia. Noi dobbiamo avere la forza di stare sempre in equilibrio, si perde e si vince, dobbiamo avere il giusto equilibrio, la giusta mentalità e sicuramente faremo di tutto per dare una grossa soddisfazione a questo pubblico che anche oggi qui, nonostante la distanza, è venuto numeroso e sicuramente è anche una vittoria dedicata a loro che ci stanno vicino sempre. Sono venuti ieri alla rifinitura a darci forza, coraggio ed è importante, per la squadra questo è importante. Dopo una sconfitta avere la fiducia della gente e dei tifosi è importante.